No! E che dici sono capace? Secondo te? E che dici sono capace? Mi sono fatto sparare con il giubbotto, ok? Se io posso venire vicino e mi dice va, girati lì, vado là e ho girato! Ma tu che cazzo vai tuoi? Si deve fare così e tu lo sai! Ma non sei più, eh? Ti devo proteggere! Vattene, se non ti ammazzo! Se me ne vado, non ammazza lui! Però tu ti impara a leggere e a scrivere, va bene? Un brindisi al nuovo candidato alla vittoria della democrazia cristiana! È abusivo! È abusivo! Bello! Bello! Olick, salvador mi padre pronunciamo il nome di una persona che ci dia il coraggio di morire con il suo nome sulle labbra il coraggio di morire